C'è una cucina semplice e molto contadina, semplice perché non c'è mai stato grande tempo di preparare e pensare piatti, perché qui è stata una zona dove si è sempre lavorato parecchio, chi in campagna e chi nell'industria quando ha cominciato a nascere l'industria, per cui in realtà il tempo per una cultura alimentare non è mai stato molto, per cui una cucina semplice che lasciasse molto tempo, come per esempio i brusciti che sono un classico assoluto della cucina bustocca, per cui una preparazione breve, una cottura molto lunga che potesse lasciare il tempo di fare altro durante la cottura del piatto, semplice perché appena si finiva di lavorare, soprattutto in campagna, si rientra in casa, si toglie questi brusciti dal fuoco e si mangiano così al volo e si ritorna di nuovo in campagna. Altro piatto abbastanza tipico della nostra zona è la rusticiada, che ha la stessa rusticiana, che è lo stesso principio, in questo caso si tratta soprattutto di maiale, cipolle, pomodoro fresco o pelati, salsiccia, viene cotto anche questo per lungo tempo, sempre sul fuoco, viene accompagnato sempre dalla polenta anche questo piatto e funziona come per i brusciti, anche questo si taglia, si prepara, si lascia cuocere e nel frattempo si va a fare i lavori che ci sono da fare, si torna e si consuma il piatto. Sicuramente i risotti fanno comunque parte della tradizione, sicuramente della zona e nel nostro caso facciamo diversi tipi, in questo momento ci sono i funghi, per cui chiaramente i funghi, zafferano e barbera, un risotto molto interessante. Zuppe tendenzialmente sono zuppe di verdura, per cui dal passato classico alla minestrone di verdure, che sono le verdure che poi nell'orto ognuno aveva e in parte ancora ognuno ha, perché fortunatamente c'è ancora una tradizione abbastanza grande degli orti privati in città, per cui comunque si usano le verdure dell'orto, sempre con il riso ovviamente, il riso è sempre assieme al minestrone. Abbiamo parlato dello stracotto d'asino, che secondo me vale veramente la pena, intanto perché è una cosa molto antica, una cosa difficile anche da cuocere, perché per farlo bene ci sono tempi molto lunghi di cottura, con una polenta come si deve, integrale, secondo me è ottimo, veramente merita e purtroppo come dolce qui non abbiamo una grossa tradizione, se non quelle classiche diciamo lombardi o milanesi, legate un po' alle feste principali, per cui può essere il panettone, piuttosto che, ecco a gusto si usano le coppette, che sono questi dolci fatti con delle mandorle caramellate, racchiuse in due sfoglie di ostia, per intendersi, e come antipasti in effetti vale la pena, secondo me la mortaella di fegato vale la pena, vale la pena provarla e poi comunque è chiaro che c'è comunque una tradizione di pancette, insomma classiche di lardo, queste cose ci sono viste, data la presenza del maiale chiaramente questo tipo di salumi ci sono comunque, anche se non sono proprio identificativi di questo territorio. Grazie a tutti.